Natale Sicuro e l'operazione della Guardia di Finanza di Saluzzo che ha portato al sequestro di prodotti natalizi per un valore di 40.000 euro Sabato 21 dicembre i funerali di Emanuela Mazzitelli 44 anni morta sul colpo investita da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali a Beinette Dovrebbe riaprire a gennaio la tangenziale di Fossano crollata tre anni fa solo una parte della variante sarà però transitabile dai mezzi sopra le tre tonnellate e mezzo Come stanno i cuneesi? Se le è chiesto in un anno di lavoro il tavolo del benessere istituito dall'amministrazione cuneese Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telegranda edizione del telegiornale che si apre con una notizia di carattere regionale Roberto Rosso assessore regionale tra i leader di Fratelli d'Italia è stato arrestato l'accusa di scambio elettorale politico mafioso avrebbe chiesto voti ad alcuni esponenti dell'andrangheta di Carmagnola alle elezioni regionali del maggio 2019 avrebbe pagato 15 mila euro per un pacchetto di voti sono allibito per quanto accaduto dichiarato il governatore del Piemonte Alberto Cirio in una nota stampa un'accusa di questo tipo è la peggiore perché vuole rappresentare l'istituzione ed è totalmente incompatibile con il nostro modo di vedere la vita e l'impegno politico per questo ci auguriamo che Roberto Rosso possa dimostrare la sua totale estranità ai fatti e confidiamo pienamente nel lavoro della magistratura in queste ore Roberto Rosso ha fatto pervenire le dimissioni al presidente Cirio dimissioni che sono state ovviamente accettate la nomina è stata revocata non possiamo accettare a scritto Cirio che esista alcuna ombra più che mai che su un tema come quello della lotta alla mafia ed ora proseguiamo il notiziario con la Guardia di Finanza di Saluzzo ha portato a termine l'operazione Natale Sicuro sequestrati oltre 40.000 euro di prodotti natalizi prodotti natalizi potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini luci a led lampade accessori ma anche maschere e make up a tema materiale da cartoleria e stickers e l'ultima operazione della Guardia di Finanza di Saluzzo denominata Natale Sicuro il sequestro ha un valore che supera i 40.000 euro le sanzioni arrivano fino a 50.000 nei guai due negozi del Saluzzese ma anche un uomo di nazionalità marocchina pinzato mentre vendeva capi contraffatti di note case di moda scarpe giubbini imbottiti orologi e borse di lusso ritrovati anche durante il sequestro in casa tutti i prodotti sono stati sequestrati e segnalati alla Camera di Commercio di Cuneo mancano dell'indicazione dell'importazione e del distributore nazionale delle istruzioni in lingua italiana sulle modalità d'uso e della composizione merceologica l'uomo è stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione i negozi sono stati sanzionati a fare le spese di queste violazioni spiegano dalla Guardia di Finanza di Saluzzo sono i consumatori la cui sicurezza viene messa a repentaglio dalla vendita di prodotti che non rispettano le più elementari regole imposte dalle normative vigenti ma anche i commercianti che operano nel pieno rispetto della legge per la viabilità andiamo a Fossano dove a gennaio dovrebbe riaprire al traffico pesante la tangenziale quella che crollò tre anni fa non è ancora stata fissata la data ma è già stato stabilito che solamente un tratto sarà transitabile ai mezzi di portata superiore delle tre tonnellate e mezzo si tratta dei due chilometri che divedono l'ingresso da frazione tagliata perché arriva dal Bra e Cervere e l'uscita in direzione Marene una richiesta che il nuovo sindaco Dario Tallone aveva fatto ad Anas appena insediato nell'amministrazione comunale fossanese allo scopo di snellire il traffico pesante sulla città che appunto da quando è crollata la tangenziale è costretta ad ospitare anche il passaggio dei mezzi pesanti per il momento non è ancora stata fissata la data comunque di riapertura al traffico pesante ma sarà sicuramente gennaio è atteso invece in primavera lo studio costi benefici che serve a stabilire se è meglio rinforzare la tangenziale oppure abbatterla e rifarla del tutto cambiamo argomento come stanno i cunesi se le è chiesto in un anno di lavoro il tavolo del benessere istituito dall'amministrazione comunale per effettuare una ricerca sullo stato di salute dei residenti del capoluogo provinciale scovare eventuali problematiche e soprattutto proporre soluzioni un anno di lavoro decine di cittadini coinvolti missione capire come stanno i cunesi a perseguirla il tavolo del benessere istituito dall'amministrazione comunale di Cuneo conclusa la prima fase quella dello studio e della ricerca è un percorso di ascolto dei cittadini per essere in grado di valutare qual è la percezione che hanno i cittadini della nostra città dei servizi di come si trascorrono le giornate e quindi la nostra amministrazione ha affidato all'istituto di ricerca e formazione eclettica di Torino e Cuneo l'incarico appunto di seguirci in questa ricerca come ha reagito la cittadinanza interrogata sul proprio benessere la cittadinanza si è dimostrata molto interessata quindi non solo noi interessati a loro ma la cittadinanza è interessata a noi come avete fatto a scoprire il grado di benessere Cuneo è stato innanzitutto istituito per volontà dell'amministrazione un tavolo benessere quindi abbiamo coinvolto 12 cittadini che coprono un po' tutte le aree considerate dall'istat le 12 aree del benessere del cittadino quindi si va dalla cultura all'istruzione piuttosto che alla sanità e ai servizi sociali l'ambiente quindi abbiamo coinvolto queste persone abbiamo costituito un tavolo e il tavolo ci ha accompagnato per tutto l'anno di lavoro noi come ricercatrice abbiamo poi analizzato tutti i dati secondari disponibili quindi i dati da partire dall'istat fino a quelli prodotti a livello locale quindi dalle fondazioni e dai centri studi locali e li abbiamo discussi con questi cittadini competenti del tavolo di cui poi è partito un laboratorio che sotto forma di workshop un pomeriggio di lavoro con i cittadini quindi sono stati invitati un centinaio di cittadini e hanno risposto in 70 che hanno attivamente lavorato con noi per individuare sia gli aspetti positivi sia quelle aree di criticità ultimo passaggio è stato un questionario aperto pubblicizzato attraverso il sito del comune e i mass media rivolto a tutti i cittadini e hanno risposto 772 cittadini che non è poco sempre sulla rilevazione di come stanno a livello di benessere inteso proprio a 360 gradi in generale si rileva un'elevata soddisfazione dei cittadini per la propria qualità di vita il 72,8% è soddisfatto per la situazione economica il 91,2% per la salute il 92,9% per le relazioni familiari i più soddisfatti sono decisamente gli anziani over 65 i giovani under 25 i giovani adulti 26-39 anni sono i meno soddisfatti della propria situazione economica e della qualità del proprio tempo libero risultato che riflette una situazione generalizzata in Italia dare spazio e opportunità ai giovani incrementare le politiche di conciliazione dei tempi di lavoro proseguire nella direzione di una città verde aumentare l'informazione dei cittadini i punti sui quali occorrerà lavorare l'esperimento è riuscito a tal punto che insomma bisogna creare un seguito certo e così faremo perché l'intenzione appunto è di raccogliere gli elementi che sono emersi e di istituire dei tavoli formali con istituzioni con associazioni di volontariato con gruppi di cittadini che possano darci dei suggerimenti per migliorare per offrire una città veramente a misura di cittadino torniamo a parlare della tragedia che si è consumata nei giorni scorsi sulla provincia 564 Cuneo Mondovì nel territorio comunale di Peveragno in villaggio Colombero Emanuela Mazzitelli 44 anni è morta sul colpo investita da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali in località appunto Colombero sabato 21 dicembre alle 14.30 nella parrocchiale di Santa Maria a Peveragno si svolgeranno i funerali la donna che soffriva di una lieve disabilità frequentava spesso il centro di urno di Corso Francia Cuneo e amava cucire con lei c'era anche una studentessa di 16 anni che è riuscita a schivare il mezzo riportando leggere ferite ad una spalla ed ora cambiamo argomento si è svolto ieri giovedì 19 dicembre il convegno gestione dei rifiuti a Villanova Mondovì per parlare della prospettiva di riforma un dibattito a più voci sul futuro della regge regionale 1 2018 Assessore oggi si è tenuto questo convegno organizzato da ISPA ed insieme dove si è fatto un po' il punto sulla situazione di quella che è la gestione dei rifiuti mi pare che sia emersa la volontà di modificare qualcosa rispetto alle normative attualmente in vigore cosa sono gli aspetti che lei ritiene debbano essere modificati l'idea è quella di andare incontro alle esigenze dei sindaci dei piccoli sindaci dei piccoli comuni proprio per dare questa autonomia ai consorsi quello che mi è stato richiesto sin da subito quindi vogliamo aiutare i consorsi a migliorare l'aspetto della raccolta differenziata sostenendoli da un punto di vista delle competenze tecniche e anche di risorse finanziarie perché l'idea è quella di raggiungere il 65% di raccolta differenziata che è la media regionale avvicinarci molto di più alle altre regioni virtuose come la Lombardia e il Veneto perché con i rifiuti oggi puoi creare una green economy creare una ricchezza e salvaguardare l'ambiente l'idea è quella di promuovere la raccolta differenziata porta a porta come primo passo e la seconda quella di fare la tariffazione puntuale cioè fare in modo che chi più produce rifiuti più paga e chi meno ne produce meno paga quindi avranno i cittadini un risparmio economico importante sulle bollette Il punto di vista delle raccolte i dati sulle raccolte differenziate ci confortano nel senso che sono in crescita abbiamo ancora un po' di luci ed ombre perché in questo momento abbiamo una media piemontese che per il 2018 si è attestata sul 61,2% rispetto a livello nazionale com'è? Rispetto a livello nazionale è abbastanza buona ma è un po' sotto le altre regioni del nord che sono soprattutto il nostro riferimento Generale noi cunese la facciamo bene alla differenziata abbiamo dati in crescita i dati sono abbastanza positivi ci sono alcune peculiarità della nostra provincia che credo che il legislatore regionale e nazionale dovrebbe tenere in considerazione penso in particolare ai piccoli comuni che hanno una grande propensione turistica pensiamo a tutta la zona delle valli cuneesi saluzzesi piuttosto che la zona dell'alta langa della langa dei roeri dove ci sono comuni che hanno grandi presenze turistiche e pochi abitanti e in questo tipo di gestione dal punto di vista dell'abbassamento del valore della raccolta differenziata incide e credo che sia corretto che il legislatore regionale e nazionale tenga conto di queste che sono delle peculiarità che poi incidono sui dati di quei singoli comuni che rischiano di essere sanzionati una delle problematiche è quella legata ai consorzi di ambito sono ancora operativi? i consorzi di ambito diciamo consorzi di bacino in questo momento sono ancora operativi nonostante siano previsti in superamento nella riforma adottata nel 2018 oggi discutiamo e riflettiamo su quale sia la dimensione territoriale ottimale di organizzazione del servizio cioè se sia diciamo auspicabile in un futuro anche prossimo che l'ambito territoriale di organizzazione diventi quello provinciale o se possono essere mantenuti i consorzi attuali subprovinciali che sono più piccoli la comunità del parco alpimarittime ha espresso le proprie indicazioni in vista del rinnovo delle cariche del consiglio dell'ente con voto unanime l'assemblea di sindaci e presidenti dei unioni montane si è espressa a favore di Pier Mario Giordano promotore finanziario di Borgo San Dalmazzo per la carica di presidente le indicazioni della comunità del parco saranno trasmesse alla regione Piemonte per la nomina ufficiale con decreto del presidente della giunta regionale è prevedibile che il nuovo consiglio entrerà in carica nel mese di gennaio prossimo e al contrario si conclusa con un nulla di fatto la riunione della comunità del parco del Monviso sono infatti i risultati ammissibili Giovanni Damiano e Gianfranco Marengo di Verzuolo Ivan Barbero di Vravello Marina Bordese di Villafranca e Silvano Dovetta di Venasca Federico Borgna è presente alla riunione come presidente della provincia di Cuneo e ha auspicato un presidente cunese constatato il mancato accordo la giunta regionale trascorsi 30 giorni previsti per legge procederà a nominare il prossimo presidente del parco base dei tre nomi emersi ed ora parliamo di Natale il Natale ovviamente è ormai sempre più vicino come risaputo è tra le feste più importanti della comunità cattolica nel prossimo servizio i saluti e gli auguri del Fescovo di Cuneo e Fossano Piero del Bosco che noi abbiamo incontrato in occasione della nostra trasmissione la grande c'è le lascerei la telecamera lei sa qual è la sua per esprimere il suo pensiero natalizio e gli augurio ai cunesi cunesi in senso lato è provincia provincia ma anche i piemontesi perché noi siamo una televisione regionale quindi possiamo addirittura allargarci ma direi l'augurio di buon Natale che rivolgo a tutti i cunesi città e provincia deve proprio partire dal significato profondo di questa nostra solennità Dio che entra in punta di piedi nella nostra storia Dio che viene accolto dalla gente semplice un Dio che si è abbassato al nostro livello e ci chiede di fare altrettanto ci chiede l'umiltà ci chiede la disponibilità ci chiede di vivere veramente nel profondo del nostro cuore la pace ci chiede di essere un'unica realtà un cuor solo un'anima sola Dio che è venuto a piantare la tenda in mezzo a noi ecco rendiamoci conto di questa presenza e rendiamoci conto anche della grandezza del mistero del Dio che si è fatto uomo di fronte ad una nascita di un qualsiasi bimbo ecco noi rimaniamo a bocca aperta così è stato per Maria e Giuseppe in quella grotta così lo deve essere per noi dobbiamo imparare a diventare adoratori della vita ringraziando veramente Dio per il mistero che ha voluto porre nel nostro cuore allora l'augurio di Buon Natale che voglio rivolgere a tutti i conesi che sia un Natale di serenità di pace un Natale di condivisione e di attenzione anche verso coloro che fanno più fatica ad andare avanti auguri di Buon Natale anche una riflessione sull'anno che verrà da parte della Camera di Commercio di Cuneo e della Regione è il momento un po' di bilanci bilanci per guardare a quello che è stato ma soprattutto per guardare il futuro è un 2019 che si chiude nonostante tutte le difficoltà con qualche sorriso sulle labbra dei cunesi che ancora una volta hanno dimostrato grazie al loro lavoro e al loro impegno di essere i primi attori io credo di un rinascimento economico culturale che il Piemonte deve mettere in campo quindi si chiude bene all'anno 2019 nei numeri auspichiamoci che il 2020 sia altrettanto importante che vi siano tante altre opportunità da mettere in campo che i nostri imprenditori la nostra gente ma anche la nostra politica sappia in qualche modo raccogliere le esigenze di un territorio che ha pochi paragoni credo all'interno del contesto non soltanto regionale ma nazionale e quindi un augurio anche di serenità da vivere all'interno di questo grande valore che è la famiglia Cuneese ma innanzitutto l'augurio è quello di pace e di serenità per tutti quello che mi aspetto dal punto di vista della regione di riuscire a creare un progetto Piemonte 2024 avere un progetto condiviso per arrivare ai traguardi che questa regione merita e magari provare a percorrere un disegno che il mio amico Ferruccio Dardanello aveva tracciato tanti anni fa quello di un'euroregione quella che collega Genova Nizza e Torino in un territorio dal punto di vista turistico della capacità produttiva della piccola media impresa unico e straordinario che messo insieme vincerà la partita sicuramente su tutti i mercati in una stagione in cui purtroppo in giornate come questa andiamo a incontrare gli operai dell'Ilva abbiamo incontrato all'ora di pranzo Embraco ci sono situazioni drammatiche che stanno vivendo certe famiglie e vivranno un Natale difficile e dobbiamo mettere tutto l'impegno possibile per cercare di risolvere queste problematiche abbiamo però sicuramente delle frecce nel nostro arco che se avremo la capacità di interpretare e giocare bene ci permetteranno penso di vincere la partita Anche il parco fluviale Gesso e Stura il comune di Cuno hanno firmato il manifesto per il clima andando così ad aggiungersi ad oltre mille soggetti enti e personalità di spicco della società che lo hanno già sottoscritto mentre il numero di firme continua a crescere Il manifesto è promosso dalla fondazione Simbola col diretti Confindustria Enel e dalla sala stampa del Sacro Convento di Assisi e sta raccogliendo centinaia di adesioni dal mondo intellettuale delle attività produttive dell'ambientalismo l'obiettivo è di affrontare la sfida della crisi climatica con il contributo delle migliori energie tecnologiche istituzionali politiche sociali culturali e civiche del paese Ed ora parliamo di eventi ovviamente quelli del territorio torna a Peveragno Natale in contrada alla vigilia di Natale a Santo Stefano a partire dall'evento rievocazione storica di antichi mestieri degustazione di prodotti tipici e presepe vivente Siamo qui per parlarvi del Natale in contrada di Peveragno due serate la sera del 24 quindi la vigilia di Natale e la sera di Santo Stefano una rappresentazione nelle contrade più antiche del paese in mezzo ai portici e alle vecchie strade medievali del paese con gli antichi mestieri rappresentati quindi falegnami fabbri sarte calzolai un po' di tutto e con tante degustazioni di prodotti tipici preparati dai volontari quindi una serata da passare in famiglia con la possibilità di degustare cibarsi e nello stesso tempo vedere una rappresentazione del paese antico chi entra nelle strade di Natale in contrada piomba improvvisamente alcuni secoli indietro perché abbiamo cancellato ogni insegno di modernità e quindi chi entra di dentro rivede il paese antico come era una volta la sera del 24 la vigilia di Natale è molto suggestiva e poi la sera del 26 con i fuochi d'artificio sulla collina di San Giorgio a chiudere la serata in tutte e due le serate all'interno della chiesa della confraternita una cornice molto suggestiva ci sarà l'associazione culturale Gaisaber che allestirà uno spettacolo intitolato Angels Pastres e Miracles sulle rappresentazioni dei tipici santon di Provenza e invece nel cortile della Casa Villani in un altro angolo mediovale all'interno del paese la compagnia del Birung rappresenterà l'oro del Remaggio che è una rappresentazione teatrale che stanno portando in scena da molto tempo e che all'interno di questa cornice suggestiva ha sempre il suo magnifico effetto quindi due serate da passare con calma passeggiando per le contrade del paese adatte per tutti famiglie bambini e con tantissime cose da vedere compresa la natività all'interno di una vecchia stalla con bue asinelle e una famiglia e ancora per gli eventi sarà inaugurata sabato 21 dicembre nell'ex confraternita di Robilante la mostra Arteggiando dedicata alle opere degli artisti il rinascimentale Marisa Aime Sofia Maroglio Mauro Mandrile e Davide Gerbaldo nella rassegna organizzata da Silvio Iacono pittore conosciuto con lo pseudonimo del rinascimentale insegnante di arti marziali saranno esposti anche i lavori dei ragazzi che frequentano le palestre di Robilante Boves e Borgo San Dalmazzo realizzando seguendo il fil rouge della cultura orientale ed in particolare giapponese ed ora parliamo di sport invernale in neve e anche disabilità grazie a realtà come discesa liberi impegnati a Prato Nevoso dal 15 al 17 gennaio prossimo con la Coppa del Mondo di Ski Paralimpico sport invernali anche in Valle Peseo che a fine gennaio ospiterà i campionati italiani di Biathlon e a febbraio le prove dei campionati regionali di Ski di fondo discesa liberi lo sport sport sulla neve che abbatte le barriere in verità non siamo noi che abbatte le barriere ma sono i disabili che abbattono le barriere con la loro mentalità noi aiutiamo soltanto gli diamo una mano al loro materiale nel senso che gli diamo le attrezzature e gli diamo un aiuto fisico e basta il nostro obiettivo è quello di far conoscere il movimento a favore dei disabili ma non è soltanto basato sul farlo conoscere ma noi vogliamo far cambiare la mentalità delle persone che verso la disabilità quelli che ancora non lo pensano che pensare che il disabile è una persona che porta una disabilità ma che non che è una disabilità se riusciamo a capire questo e a far capire questo il nostro obiettivo è raggiunto che poi se mi permettete lasciatemelo dire è un obiettivo politico sociale non è soltanto un obiettivo mero legato alla disabilità noi precediamo la coppa del mondo femminile normale diciamo del Sestri di qualche giorno e io dico a tutti quanti coloro i quali vogliono emozionarsi per vedere sciare della gente che va forte di andare a questi due eventi ma se dovete scegliere un evento vi consiglio di scegliere coppa del mondo paralimpica a Prato Nevoso per la stagione prossima 2019-2020 gli eventi più importanti saranno senz'altro i campionati italiani Biatlon che si svolgeranno l'ultimo weekend di gennaio a seguire ci saranno le prove dei campionati regionali di sci di fondo la seconda settimana di febbraio e ultima una manifestazione un po' goliardica una mangiassi sullo sci di fondo che è sui 30 km che ci sono della nostra Valle Pesio questi sono i progetti per la Valle Pesio 2019-2020 sperando che l'inizio della stagione con questa neve qui possa implementare le piste aperte che attualmente sono di circa 5 km ed ora una notizia che riguarda invece la viabilità una disposizione assunta sia dall'ANAS che dal gestore equivalente delle strade francese siamo in Alta Valle Stura al Colle della Maddalena dove a partire dalla giornata di oggi dalle 14.30 di questo pomeriggio la statale 21 è stata interdetta al traffico nel tratto compreso dal comune di Argentera fino alla confine con la Francia e dalla confine con la Francia è stata ancora chiusa dal gestore francese per le condizioni meteo avverse la chiusura è predisposta da oggi fino a data da destinarsi fin quando appunto non tornerà sicura per viaggiare si raccomanda comunque prudenza nella guida ricordano sia ANAS del gruppo FS italiana che il equivalente francese ricordano che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile su tutti i siti dedicati e con questa notizia si chiude questa edizione del telegiornale l'ultima del 2019 per conto di tutta la redazione dell'editore e della direzione vi porgiamo i migliori auguri di un buon Natale un felice anno nuovo e nel quale ovviamente tornerà il DG di Telegranta grazie ancora per averci seguito e ancora auguri grazie a tutti